I carabinieri della compagnia di Trapani, col supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia, hanno denunciato a vario titolo tre soggetti per guida senza patente, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I militari dell'arma, durante l'espletamento di un normale servizio volto alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo tre soggetti, due uomini e una donna, che percorreva la via Marsala in località Paceco. All'esito del controllo, la conducente è risultata sprovvista della patente di guida e l'auto priva di copertura assicurativa, motivo per il quale i carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo del mezzo, così come previsto dal Codice della Strada. Durante le fasi di compilazione dei verbali, i tre pregiudicati, venuti a conoscenza della gravità del provvedimento e della sanzione prevista dal Codice della Strada per tale infrazione, sarebbero andati in escandescenza, proferendo frasi minacciose e oltraggiose nei confronti degli operanti con l'intento di farli desistere dal loro operato, sferrando calci all'autovettura sequestrata danneggiandola. E' scattato perciò il deferimento all'autorità giudiziaria.